ciao a tutti i ragazzi benvenuti o bentornati a questo nuovo video su metal dog channel oggi sono qui per parlarvi un po di the menu il nuovo film di mark my lord uscito al cinema a venizio del mese scorso penso novembre e vi voglio parlare di questo film perché io l'ho visto di recente sono rimasto veramente colpito da un film abbastanza strambo diciamo così tra l'altro ha un grandissimo cast tutti i ruoli perfetti caratterizzazioni ottime grandi depredazioni di raffa ines anna taylor joy john de guizamo che sostanzialmente la trama di questo film è molto semplice raffa ines è un cuoco esperto di cucina culinaria molecolare e quindi tiene una sorta di assaggio a dei componenti fissi di questo locale situato su questa isola abbastanza sperduta per fargli provare questa nuova cucina che lui dice rivoluzionaria ovviamente qui ci hanno tutti queste illustre persone che poi alla fine si scoprono che non sono scelte a caso ognuno è lì perché effettivamente ha un qualcosa da nascondere anche un po soprattutto nella società e nella vita di tutti i giorni e quindi in base poi a queste pietanze vengono fuori dei sorte di giochi dove vengono fuori tutte queste vite e questi segreti di tutte queste persone che partecipano lì e non vi dico altro della trama perché la trama di questo film nonostante sia semplice però se ve la spero così potreste un po perdere tutto l'effetto del film perché è comunque un film che è incentrato sulla trama la trama non è originalissima però devo dire che comunque ha degli spunti abbastanza originali il film sembra quasi un'opera teatrale l'85 per cento è tutto girato in questo in questa stanza di questo ristorante su questa isola interpretazioni degli attori veramente veramente bellissima talato una caratterizzazione dei personaggi veramente ottima ben scritti caratteri molto molto accurati e devo dire che è un film che dura circa un ora e 40 però ti lascio con il fiato sospeso perché stai lì che vuoi sempre vedere come va a finire come si evolverà la faccenda ho trovato qualche cosa un po fuori luogo c'è stato non un film perfetto però devo dire che tutto sommato il film mi ha veramente veramente soddisfatto e è un film che non è che abbia tantissima scenografia fotografia anche se comunque sono tutte molto molto degne tra l'altro la scenografia del locale è molto ben curata anche nei dettagli devo dire la colonna sonora non è che sia che mi ha fatto particolarmente impazzire però diciamo che fa il suo non è nemmeno così tanta elevata diciamo così ma la cosa più interessante di questo film è sicuramente la regia è il modo in cui la storia viene messa in scena perché vediamo un modo molto particolare di raccontare la faccenda attraverso queste pietanze perché diciamo il film si suddivide in capitoli precisi ogni capitolo sarebbe poi una pietanza che deve essere servita e detto questo possiamo trovare una bella regia un bel montaggio di cose negative in verità sono poche sono poche perché il film lascia veramente intrattenere è un film in verità anche di difficile catalogazione viene catalogato come una sorta di un horror drammatico ma tanti anche thriller e diciamo che non è di facile catalogazione un film del genere perché ha in sé vari elementi di vari generi diversi e devo dire che questa cosa qui l'ho molto apprezzata non è facile fare oggi un film del genere visto perché è poi anche quasi impossibile fare veramente un film del tutto originale qui non hanno fatto film del tutto originale però ci sono delle cose almeno per quanto riguarda la sezione di regia veramente veramente interessanti e devo dire che comunque alla fine il film è un film che sicuramente a fine visione un po' qualcosa lo lascia non è uno di quei film che a fine visione ti sei già dimenticato che ti lascia insoddisfatto a me mi ha lasciato anche abbastanza soddisfatto tra l'altro è un film che ha anche alcune tematiche importanti che anche se non vengono diciamo centralizzate però te le fa capire un po' da sé anche dal finale il finale devo dire che mi è piaciuto molto anche il finale cosa non scontata in un film del genere è un film che si lascia ricordare per esempio io l'ho visto ieri ma me lo ricordo ancora abbastanza bene alcune scene molto vivide perché non sono scene che si possono trovare la cimera in altri film questo non perché ci sia chissà che cosa di così soordinario ma è proprio ripeto la messa in scena del film che è quasi da opera teatrale cosa che effettivamente io non so se possa essere un'opera teatrale non penso non penso sia nemmeno un romanzo ma questo non posso esserne certo però devo dire che un po' qualcosa di tale genere lo fa intuire detto questo ragazzi io voglio ringraziarvi per aver visto il video voglio ringraziarvi perché il canale sta cominciando a essere più seguito fatemi sapere voi che cosa pensate di questo film che è stato da un lato acclamato e dall'altro molto criticato io sono abbastanza nel mezzo perché comunque è un film che non è perfetto però devo dire che è un film abbastanza interessante è un film che non è facile trovare in questo periodo quindi devo dire che tutto sommato è un film che si lascia abbastanza guardare è un film che comunque anche questo qui non è un film molto commerciale quindi magari mi rendo conto che per qualcuno può essere un po' noioso per altri meno a me per quanto mi riguarda ripeto non ha per niente annoiato l'ho visto con molto piacere con molta tensione anche perché alla fine anche un film che crea una sorta una sorta di tensione tra l'inizio e la fine sempre crescendo e devo dire su alcune cose un film che ha degli aspetti anche molto molto inquietanti e quindi il genere è un organza a pennello su alcune cose quindi grazie a tutti per la visione fatemi sapere che cosa ne pensate condividete il video lasciate un like per supportare il canale attivate la caponella delle notifiche noi ci vediamo tutti al prossimo video ciao a tutti e grazie